La speranza viene generata la franchezza, come abbiamo detto, non la sincerità, la franchezza, quindi il parlare con franchezza è parlare con direttività, con chiarezza, con forza, la franchezza ha a che fare con qualcosa di puro, quindi non è più la mezza misura ma è la totale misura, quindi quando un figlio di Dio parla e predica e insegna con franchezza sta insegnando in modalità puro, Gesù secondo voi parlava con franchezza o no? Le parole che procedevano dalla bocca del Signore erano pure o contaminate? E quando il Signore Gesù insegnava, insegnava con franchezza o con paura di fare del male a chi lo ascoltava? Perché? Perché la franchezza in un ministero è tutto, quando un ministro di Dio non vive, non insegna, non predica con franchezza, sta costruendo in se stesso e negli altri una mezza verità e le mezze verità da chi procedono? Dal diavolo, ok? Quando io insegno la mezza verità sto insegnando attraverso colui, il padre della menzogna che è Satana, eh? Quando viviamo nella speranza di Dio non ci confonde, la speranza di Dio non confonde, ma le mezze verità di Satana confondono non solo te stesso, ma anche il tuo ministero. Se non imparate la franchezza oggi, come potete domani formare persone che vivano nella solita franchezza vostra? Se io non fossi una persona franca, secondo voi, voi potreste diventare persone franche? Se io vi predico le mezze verità, dove verrà fondata la vostra vita spirituale? Quindi la speranza non confonde, ma anzi ci dà chiarezza e quando ci dà chiarezza inizieremo ad evolvere il nostro relazionare con chi? Ma prima di Dio con noi? Quindi se non siamo franchi con noi stessi, noi possiamo essere franchi gli uni gli altri? La franchezza non è dire la cosa giusta al momento giusto, la franchezza è dire mi hai fatto male. Perché mi hai fatto male? Perché hai usato questo con me? Essere franco è dire la tua condizione, la tua realtà, personale o ministeriale. Non ha importanza. L'importante è la verità. Alla base della franchezza c'è la veri... Senza verità non usi la franchezza. Quando sei doppio non puoi essere franco. Amen? Da questa vera relazione inizieremo anche a praticare una certa libertà nel parlare con franchezza. Quando noi abbiamo un'autentica relazione con Gesù, noi inizieremo a avere una certa libertà. L'avete mai sperimentata la libertà relazionale? Cioè la libertà che ti permette di dire quello che sei, cosa sei e come sei. Esporsi significa essere franco. Parlare franco ti porta alla libe... Prima con Dio, poi con gli uni e gli altri, ma in primis con te stesso. Quando la speranza non ti confonde perché l'amore di Dio è stato sparso nel tuo cuore, ma l'amore puro, non quello finto. Prendiamo Romani 5, 5. Lo legge Dario. Or la speranza non confonde perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Or la speranza non confonde. Vi fa una domanda allo Spirito Santo. Perché secondo voi nella parola di Dio mette in specifico e in risarto Or la speranza non confonde? Perché in specifico la parola di Dio dice la speranza non confonde? La speranza non confonde. Poteva dire l'amore di Dio non confonde. Poteva dire la misericordia, la carità, la benignità, i doni dello Spirito non confondono. Perché la specifica parte sulla speranza? Che cosa genera la speranza? La fede che crea la certezza. Ed è la fede che scaturisce la franchezza, lo sapevate? Come fai ad essere franco se non hai fede? Chi sei in Cristo Gesù? Tu! Chi sei in Cristo Gesù? Un uomo che spera contro ogni speranza come il padre della fede, cioè Abramo? O sei uno che ha le mezze misure e quindi ha una finta fede per cui tu hai la fiducia nei carri e nei buoi? Chi sei tu in Cristo? Viaggi e stai camminando come Gesù ha camminato? Stai parlando con franchezza come Gesù ha parlato con franchezza? Stai usando come Gesù la misura della fede del regno di Dio per andare avanti in questa vita? E anche se non hai le promesse di Dio, Abramo l'ha avuto subito, Isacco? aveva raggiunto il crepuscolo dei suoi anni dice la parola ma Dio gli ha detto una promessa cosa ha fatto Abramo di quella promessa? Andò dall'Eterno e gli disse Signore ma proprio ora mi dai sta cosa dove io ho raggiunto il crepuscolo dei miei anni e il ventre di Sara ormai agli occhi umani te hai raggiunto il crepuscolo dei tuoi anni per cui la tua vita spirituale può stai credendo che comunque non può evolversi le promesse di Dio non possono giungere a te stai credendo questo? Puoi dire che stai viaggiando nella promessa di Dio come Abramo viaggiò nella promessa dell'Eterno per sé e la sua progenie puoi dichiarare questo oggi? Abramo non si stabilì nella promessa di Dio Abramo ci si insuppò nella promessa di Dio e gioiva anche quando non ce l'aveva quella promessa ma gioiva perché sapeva da dove veniva quella promessa veniva dalle il suo unico e Dio non può essere infedele perché non può rinnegare chi quindi se Dio ti ha fatto una promessa quella promessa ha il sì e l'amen del regno di Dio e quindi anche se non ce l'hai fra le mani o non ce l'hai come vuoi tu è pur sempre una promessa nella quale tu devi avere fiduciosa una volta ho letto queste due frasi che mi hanno molto colpito tanto che me le sono scritte in alcuni punti per non dimenticarle ora desidero condividerle con voi e se volete potete scriverle anche voi sono qualcosa di straordinario nel tempo mi hanno insegnato ad essere resistente nella speranza ad ogni intemperanza ad ogni situazione la prima è la paura può farti prigioniero la speranza può renderti libero cosa scegli? la paura o la speranza? e questa è la seconda frase che mi ha colpito è questo la speranza vede l'invisibile ascoltate bene la speranza vede l'invisibile tocca il tangibile e raggiunge l'impossibile Abramo prima di avere Isacco l'ha toccato il tangibile il tangibile stiamo parlando spiritualmente il tangibile nella fede di Dio prima lo tocchi con cosa? con la fede quindi la speranza vede l'invisibile qui si parla spiritualmente tocca il tangibile con la fede e raggiunge l'impossibile con l'azione dello spirito santo che crea il miracolo Amen? non è forse Dio che può compiere nella nostra vita l'impossibile attraverso il nostro sperare contro ogni speranza? come fu per Abramo Abramo sperava nell'eterno totalmente relazionandosi con Dio con piena e franchezza Abramo secondo voi come ha ottenuto il nome di essere padre di molte nazioni? solo con la fede? Abramo e l'eterno erano uno di fronte all'altro e parlavano l'un l'altro con la fra? questo ha generato la fede in? quindi Abramo sperava nell'eterno totalmente relazionandosi con Dio con piena franchezza quindi Abramo aveva una relazione talmente ravvicinata con l'eterno che erano franchi l'uno con l'altro l'eterno era franco con Abramo ma anche Abramo era franco con l'eterno e questo cosa ha generato in Abramo una piena e totale fede nell'eterno Dio quindi ciò che era impossibile per Abramo è stato possibile per Dio quindi la promessa dell'eterno che è stata data da Abramo è diventata accessibile ad Abramo mediante la relazione franca che aveva con l'eterno stesso la promessa che l'eterno ha dato ad Abramo ha avuto vita è diventata tangibile quando è stata dichiarata dalla bocca dell'eterno ma è stata afferrata mediante la fede nel cuore di Abramo è lì che è diventata vita la promessa di un primo genito mi comprendete spiritualmente alla fede che ti fa essere ti fa vedere la promessa di Dio tangibile se non guardi con gli occhi spirituali e con gli occhi della fede di Abramo e non hai una profonda relazione con l'eterno franca aperta reale autentica le promesse non è che Dio non le fa evolversi nella nostra vita ma rimangono lì a motivo che non abbiamo un'apertura a 360 gradi con Dio è questo che non fa avvenire nella nostra vita e non si fa non vengono rese manifeste le promesse di Dio non è che Dio è diventato troppo piccolo per far arrivare le promesse che lui ci ha dato lui non è piccolo siamo noi che siamo piccoli nella fede quando anche la promessa sembra impossibile davanti ai nostri occhi è la fede che ti farà vedere le cose tangibili spirituali come se fossero nel naturale le cose che non sono come se fossero nel nome potente di Gesù Cristo ma se dichiariamo la sconfitta se dichiariamo il fallimento quello avremo punto e non c'entra Dio non c'entra che Dio non ce le fa arrivare perché Dio ha ritardato i tempi piuttosto che altre cose siamo noi a ritardarle perché quando camminiamo nella fede noi abbiamo le cose che non sono come se fossero le abbiamo già comprendete la profondità di questa parola la speranza la fedetà e il parlare con franchezza sono le tre chiavi che porteranno Dio Padre ad adempiere le sue promesse per noi come fu per il suo servo Abramo come ha appena detto la speranza di Dio ci porta oltre la vita terrena ascolta queste parole la speranza ci porta oltre la vita terrena ti devi spingere oltre la situazione oltre la situazione brutta la situazione impossibile a te è possibile a Dio ti devi solo spingere oltre attraverso la speranza attraverso la franchezza devi picchiare alla porta del regno di Dio con tutta la tua forza e devi chiedere a Dio di trasportarti al di là della tempesta al di sopra al di sopra non spendere le parole per dire umanamente non ce la faccio basta questa parola se dichiari che non ce la fai dichiari fallimento Amen la conoscenza autentica del Signore ci condurrà alla franchezza in primis con noi stessi e poi con Dio e infine col nostro prossimo leggiamo ebrei 3 5 6 E Mosè fu veramente fedele in tutta la sua casa come il servo per testimoniare delle cose che dovevano essere dette ma Cristo come figlio lo è sopra la propria casa e in la sua casa siamo noi se riteniamo ferma fino alla fine la franchezza e il vanto della speranza è bellissimo questo versetto noi siamo chiamati come Mosè ed essere fedeli al Signore perché per testimoniare l'autenticità della verità costi quello che costi noi siamo la casa del Signore se riteniamo ferma fino alla fine la franchezza e il vanto della speranza Amen se siamo la casa del Signore noi siamo chiamati a parlare come Gesù parlava cioè con grande franchezza avendo la speranza di Dio avendo noi la speranza di Dio nel nostro cuore e questo ci porterà a usare grande franchezza nel parlare con Dio con noi stessi e con gli altri non dobbiamo più avere paura di essere come Gesù è stato è e sarà per sempre Gesù dice farete opere maggiori di quelle che ho fatto io perché dice questa cosa perché noi possiamo tutto in colui che ci fortifica puoi tutto tu oggi puoi tu puoi ti chiede il Signore tu puoi se io ho potuto tutto tu puoi tutto in me quanto siamo deboli nelle nostre situazioni di tutti i giorni quanto il diavolo può otterrare nella nostra vita quanto possiamo essere colpiti ma noi possiamo tutto in colui che ci ha fortificati è sempre così il cuore si può spezzare l'anima può soffrire la carne sta male ma nello spirito tu puoi tutto perché tu sei la casa come scritto in ebrei del Signore se se dice riteniamo ferma fino alla fine la franchezza e il vanto della speranza or la speranza non confonde amen in seconda Corinzi 3.12 sta scritto avendo dunque questa speranza usiamo una grande franchezza nel parlare avendo dunque questa speranza di che speranza sta parlando qui di Dio in Dio la speranza di Dio nel tuo cuore avendo dunque questa speranza usa una grande franchezza nel parlare perché Gesù Cristo ha parlato con franchezza non tutti lo hanno accettato non tutti lo hanno accolto ma quelli che avevano un cuore aperto che volevano seguire la verità lo hanno ricevuto amen lo hanno ricevuto nella loro casa e la loro casa è stata cambiata perché quando Gesù entra nella nostra casa tutto cambia tutto cambia perché dove c'è Gesù non ci può stare Satana non ci può stare il peccato amen la speranza è collegata più di ciò che pensiamo alla franchezza questo ci porterà ad esprimerci con una forte franchezza per far conoscere la verità Gesù Cristo la speranza e la franchezza sono le chiavi di un autentico servizio al Signore comprendendo profondamente che il parlare con franchezza è il nostro dovere come abbiamo già visto nelle puntate precedenti amen faccio un inciso in specifico è un dovere per coloro che sono stati scelti ad uno specifico ministero dal Signore stesso i ministri sono chiamati a parlare con franchezza e non se vogliono perché è un dovere amen quindi dentro la franchezza la speranza genera la franchezza come abbiamo visto l'esempio di Abramo eccetera eccetera ora dentro la franchezza che ci chiama ad essere sinceri nell'agire e nel parlare cosa scaturisce? uno apertura due sincerità tre schiettezza quattro onestà cinque lealtà sei sicurezza sette coraggio per parlare per parlare la franchezza di cui parla la parola ci vogliono tutte queste caratteristiche e quando parli con franchezza se non hai una vera apertura al regno di Dio parlerai in maniera franca ma a livello carnale allora la franchezza carnale uccide la franchezza mediante la parola di Dio è la verità che costruisce amen e che porta vita che libera amen più stiamo con Gesù e più più assimiliamo la franchezza che egli aveva e gli altri ci riconosceranno anche da questo perché la speranza genera la franchezza ma anche l'amore genera franchezza quando ami veramente sei chiamato o dovresti essere chiamato a essere vero sincero amen quindi non solo dall'amore ci riconosceranno ma anche dalla franchezza dalla verità che abbiamo gli uni verso gli altri quando annunciamo la parola di Dio con ogni franchezza ci riconosceranno che camminiamo con Gesù come Pietro e Giovanni quando parlavano venivano riconosciuti non per l'istruzione che avevano ma per la franchezza con cui predicavano Gesù gli altri li riconoscevano che erano stati con il grande maestro Gesù Cristo ma attraverso la loro franchezza amen ovviamente c'è qualcosa di straordinario che il Signore poi ci vuole dire no la struttura ideologica religiosa cerca sempre di impedire che noi entriamo nella vera speranza che produce la vera franchezza perché la religione ideologica strutturale odia la verità odia chi predica insegna Gesù con tutta franchezza senza alcun impedimento e che spera contro ogni speranza se il popolo di Dio fosse liberato nella pienezza della speranza di Dio opererebbe non miracoli di più perché delle volte noi siamo sterili con noi stessi ma anche con gli altri perché non viviamo nella piena speranza che produce la verità che produce la franchezza non solo con noi stessi ma anche gli uni e gli altri amen la vera speranza ci aiuta a dare la nostra vita per la verità se vivremo in questi attitudini di speranza di franchezza di fede di fedeltà di chi temeremo noi come ho detto la settimana scorsa se l'uomo ti fa così tanta paura se l'uomo ti mette sotto l'intimidazione vuol dire che stai vivendo più sotto l'uomo che sotto Dio quindi stai sperando una speranza umana ma non è la speranza di Dio non è la speranza che confonde che non confonde amen la speranza di Dio non confonde non impaurisce non ti intimorisce ma ti dà una chiarezza forte di quello che è la realtà sia spirituale che materiale amen oggi abbiamo necessità di decidere ancora una volta se essere franchi o se essere franchi sì ma carnali la franchezza carnale non te la dirà mai tutta la verità te la sistema è come quel vestito che dice c'è la spallina torta aspetta che te la sistemo la franchezza carnale accomoda la tua coscienza la franchezza che la speranza che non confonde quindi la franchezza secondo Dio genera una libertà forte nel parlare e quando tu sei libero in Gesù Cristo di divulgare la verità sarai odiato a motivo di questo e il prezzo da pagare è alto non solo nell'ospito ma anche negli affetti nei sentimenti molto spesso le persone rinunciano perché hanno paura della verità perché la verità è quel lampione che si accende sulla tua vita e te non hai più zone d'ombra e quando Gesù bussa alla tua porta e ti parla con franchezza al 99,99% quella sua franchezza non ti fa del bene perché uccide la tua carne ti dà fastidio ti porta a ribellarti a dire no ovviamente quando noi non speriamo la speranza del Signore ma speriamo di una speranza carnale quindi cerchiamo noi le soluzioni come ho detto la settimana scorsa purtroppo poi rivestiamo la personificazione di quello che noi poniamo di fronte a Dio cioè davanti a Dio quindi tutto ciò che è umano ci separa da Dio tutto ciò che noi riteniamo più importante di Dio noi iniziamo a incarnarlo a personificarlo nella nostra vita ed è lì che poi arriva la perdita ed è lì che arriva poi un combattimento forte quando te quella cosa la poni al di sopra di Dio che tu sia cosciente o meno la perdi perché succede questo perché te personifichi quella cosa importante per te al di sopra di Dio e questo crea una situazione di perdita al 90% ma quando quella cosa benedetta che Dio ti dà è vissuta nell'equilibrio dello spirito e non la poni al di sopra di Dio sarà una benedizione per te non più una perdita quante volte Dio ci dona delle cose e abbiamo paura di perderle perché in realtà noi incarniamo quella paura e allora quella cosa cerchiamo di tenercela ancora più stretta e quando accade questo io ti dico da parte del Signore che al 90% quella cosa la perderai la devi vivere sì ma come Gesù la viverebbe amen quando nella nostra vita noi stiamo personificando una situazione uno stato sta a significare che stiamo incarnandoci o trasformandoci o peggio ancora umanizzandoci a quella situazione a quello stato state aprendo i vostri orecchi attenzione quando chiediamo una cosa al Signore e il Signore ce la dà quella cosa così preziosa per noi non deve andare al di sopra di Dio perché quando va al di sopra di Dio diventa pericoloso per la nostra vita diventa una pietra di inciampo amen può essere guarda posso anche dirti questo possiamo personificare non solo un affetto un sentimento ma può essere la famiglia quella cosa così importante che te incarni al di sopra di Dio incarnare significa che entra nella tua carne significa che quello ha più rilevanza di qualsiasi altra cosa incarnare significa che va addirittura al di sopra di Dio quella cosa e quando sei in questo stato Dio non può fare niente perché te ti sei messo nell'atteggiamento di mammona e cosa dice Dio di mammona non puoi servire Dio e a mammona tutto quello che Dio ti dà è per la tua benedizione ma quella benedizione non deve andare al di sopra di Dio perché se diventa Dio per te diventa maledizione allo stato puro diventa disperazione diventa paura paura di perdere paura di non avere paura paura allo stato puro ma quando Dio ti dà una cosa non è perché tu la vivi con paura la devi vivere con paura di perderla perché quando Dio ti dà una cosa è per sempre non è che oggi ti fa un dono e poi te lo ripiglia è per sempre l'importante è che tu sappia amministrare bene quel dono che Dio ti dà è importante che noi comprendiamo questo amen quindi mammona possono essere la famiglia il marito i figli i genitori economia soldi lavoro cardiera attività sentimenti emozioni sentimenti divertimento sesso eccetera eccetera tutto può essere motivo di mammona di incarnare mammona qualcosa che ci dà piacere al di sopra di Dio amen se decidiamo di riporre la nostra totale fiducia in Dio padre allora avremmo il cuore pieno di vera speranza che ci stabilirà nelle cose certe del regno di Dio quando speriamo contro ogni speranza e useremo franchezza con noi stessi e con Dio padre il miracolo avviene e quale miracolo è cambieremo direzione ai nostri pensieri e alla nostra mente e quando cambiamo direzione ai nostri pensieri e alla nostra mente noi incomincieremo ad essere fedeli e non degli infedeli se noi crediamo veramente vedremo la gloria di Dio amen sta scritto in Giovanni 11 40 prendiamolo Gesù le disse non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio qui Dio Gesù pone una domanda non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio è come se Gesù oggi venisse da noi e ci dice non te l'ho detto non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio ovviamente credere non come credono i demoni perché i demoni credono e tremano noi dobbiamo credere attraverso la speranza attraverso la franchezza della nostra relazione con Dio perché da essa da questa relazione scaturisce la vera fede che ci porta che porta all'eterno ad adempiere le promesse che lui ci ha fatto nella nostra vita è un'equazione spirituale che non fa una piega il Signore delle volte permette ci conduce egli stesso nella prova in delle situazioni dove noi siamo messi alle strette siamo messi con le spalle al muro cioè siamo in un certo modo costretti all'esercizio di questa speranza e di questa franchezza sicuramente questo non è sempre se facile e sicuramente delle volte tutto faremo meno che esercitare questi due doni perché hanno un costo hanno un prezzo questi due doni è il prezzo che ha pagato Gesù Cristo Amen sicuramente questo non è facile ma se pensiamo riflettiamo che Abramo e molti altri servi dell'eterno furono provati riguardo all'esercizio della loro fede della loro speranza della loro franchezza cosa ci fa pensare che anche per noi non sarà così può Dio a te che sei suo figlio dare una pietra a posto del pane Gesù con te si relaziona in modo autentico e franco ma la chiave non è se lui si relaziona con franchezza con te la chiave è tu ti relazioni con lui con franchezza perché è da questa franchezza che scaturisce un vero e proprio rapporto Gesù con alcuni di voi ha un rapporto autentico ma con altri non lo può avere a motivo della chiusura che c'è non chiudere il tuo cuore perché quando chiudi il tuo cuore stai dicendo addio stai fuori dal mio cuore ora sto male sono ferito ci penso io lui vuole stare lì dove tu stai non importa se ti strappi i capelli non importa se ti strappi qualsiasi altra cosa ma lui vuole stare lì con te perché quando c'è chiusura ti stai dentro la chiusura ma il resto sta fuori l'apertura con Dio è tutto nel bene e nel male non possiamo essere franchi con lui solo quando le cose vanno bene allora gioisci insieme a lui devi anche piangere insieme a lui perché è questo che ti svuota e ti rigenera Amen sicuramente i tempi dove noi stiamo vivendo non sono dei più semplici molti pensano che un po' dire vabbè sì gli ultimi tempi ma sai lei parlava l'aposto Paolo figurati oggi dai ci sarà ancora 500 anni da vivere te non sai a che ora Gesù tornerà a rapire la sua chiesa e devi farti sei chiamato ad avere un vestito pulito pronto per lui non ha importanza quanto difficoltà ci sia nel stare nel Gezzemani staci bevi il calice come l'ha bevuto Gesù paga il prezzo sali sulla croce crocifiggi la tua carne e vai e vivi e crea nello spirito Amen noi non possiamo chiedere a Dio e poi fare la nostra vita non possiamo più vivere così non possiamo proprio più vivere ne vedremo tante di persone rinunciare dobbiamo fortificare il nostro lato debole i sentimenti Dio stasera vuole entrare nel tuo cuore vuole cenare con te e vuole stare con te perché non c'è un'altra cosa migliore che stare con Gesù quando si sta in battaglia lo dico perché alcuni di voi hanno una forte battaglia nella fede chi ha orecchie per udire oda c'è bisogno di stare più con Gesù digiunate pregate deve diventare uno stile di vita dovete digiunare quando Dio vi chiede di digiunare dovete pregare sempre non cessate mai di pregare la preghiera è una compagna che non vi deve mai abbandonare mai bisogna fortificare la nostra parte debole e devi vivere nella promessa che Dio ti ha fatto perché quella non mentirà ma certamente arriverà se tu credi come un vero figlio di Dio e non devi credere essendo triste o scoraggiato devi credere nel tuo credere ci deve essere gioia anche quando gioia anche quando non hai nessun motivo di gioire sei chiamato a gioire lo stesso e lo sai perché hai un motivo eterno per gioire il tuo nome è scritto nei cieli quindi anche se carnalmente non hai motivi di gioire sappi che ce n'hai uno eterno per cui tu puoi gioire sempre e ridere di fronte al problema il diavolo non ti ha tolto niente ricorda però finché Dio non dice la sua il diavolo non ti ha tolto niente è solo che noi siamo proprio tanto umani e noi vogliamo vederla la cosa toccarla carnalmente ma prova a toccarla nello spirito provate a chiudere gli occhi a toccare la promessa di Dio con il tuo spirito ti sorprenderà l'esperienza che farai non pensare non guardare nella carne devi proiettarti nello spirito devi stare nello spirito costi quello che costi anche se la tua carne in questo momento è gigante ti ci devi sforzare ad entrare spiritualmente questa è una lezione che non è solo per i profeti per tutti coloro che professano di essere figli di Dio mi costa parlarvi così non sapete nemmeno voi quanto ma siamo chiamati a questo non sono più io che vivo ma Cristo vive in me è questa la chiave di un potente e vero cammino con Gesù Amen